La maglia azzurra per l'Italia, è iniziata l'Italia-Montenegro, ultimo turno di qualificazione ai campionati mondiali 2025, gara d'andata, il 12 maggio è il ritorno a Podgorica. L'attacco in uno contro uno, a sinistra per Bulsamini, si ritorna nel mezzo, ancora Savini, va dentro, Mengon, 1-0 dell'Italia, in penetrazione, Marco Mengon, sbrochiamo il conteggio. Davide Bulsamini, l'attacco di Marrochi, il suo uno contro uno, scappa via, vince il duello, poi Andrea Parisini. Bulsamini vuole l'uno contro uno, si attacca bene a sinistra, Tommaso De Angelis, primo palo, si sblocca anche Tommy De Angelis. Uno contro uno, larga la palla per Bronzo, che la raccoglie in aria, Umberto, Bronzo, pallone sotto la traversa. Il ritmo, il contromovimento del capitano, che poi si coordina, rete di Andrea Parisini, lo sbaglia, pari, ancora. Paolo Marrochi, che gioca l'uno contro uno, lo vince Paolo Marrochi, e poi la girella fantastica del professor Marrochi. Savini, il tiro al volo, la palla dentro, la sprende sopra le nuvole. Riceve proprio lui, attacca sul blocco del pivot, chiama in causa Bronzo, pallonetto, sbragevole. Verato, con un lob delicatissimo. Ebreer che para, la possibilità per Bronzo di andare in contropiede, scappa via Umberto, il terzo passo, sul primo palo. Impazzisce il palo San Giacomo. Per Dapirana, che può andare, Gianluca Dapirana, il gol della 30-23. Che cosa sta succedendo? Ebreer! Ebreer! Ancora Ebreer! Ebreer! 32 a 26! Con sei reti di vantaggio, andiamo a Botgorica. Una partita gigantesca della Nazionale.